Attiva Oggetti Inventario App Usa Sora No Abilità Combo aero aumenta il danno dei tuoi colpi grazie per me Rettamente proporzionato il compito del... Bene Il villaggio E adesso qui Pora la con Ho visto Shao con questi occhi Aveva un falco sulle spalle ride Ma aveva uno sguardo tallente di umano Che mi ha fatto vedere Venire i primi video Ecco Stato No Grillaio Segui Shao sulla cima Adesso devo andare Sguardo Sguardo Pro Haha Pro contro questi nemici è meglio allenar Alleniamoci un po' Una cassa E vai altra Aspettate Autoseleziona Maggia Caccia Automaticamente L'obietro Conduzione Di 0 Magneto Stato Oggetti Inventario App Usa Sora Abilità Abilità No Combo Più Aumenta il danno di colpi In maniera direttamente Dopo verso Con In una situazione difficile Bene Penso che adesso conosca abbastanza abilità Facciamo pezzi tutti Sconfiggi tutti gli Headless Ovviamente in realtà bisogna resistere e basta Ha ha Uccidiamogli Cercavo di ucciderli il numero Maggiormente possibile Si Tanto la Tanto questi sono deboli Ora addosso Pivelli Eccesso di velocità Ecco, ho ucciso 28 nemici Saltiamo Pigetti è di nuovo Mula Mula ha imparato una nuova abilità Bene E' stato aggiunto il comando limite visualizzato Limiti consuma solo L'arrivo di Sora Ma subito Una abilità che eseguono in gruppo Brazzo rosso E quindi che abbiamo imparato un attacco Una combinazione di attacchi In cui Con Mula posso eseguire Con Mula posso eseguire E posso fare un sacco di danni Turbo Personalizza Abilità Mula Vampire di Dragon Grazie Papirino Pippo Niente Salviamo E qui adesso dovrò combattere contro il boss O no Grillario Correrà 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 La città Imperiale A quanto poi avevo ragione Il sentiero montano Noi però li evitiamo Perché non abbiamo tempo Scheggiamo i trill In questo gioco ci sono C'è molta Grappazione Dannato Razzurro Ti sei messo davanti Quindi adesso muori Aia Si 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 Altra cassa E noi l'apriamo Scheggiamo i trill Qui i soldati Sono spiniti Intanto Gli handless Dovrà Qui c'è Ci saranno un sacco di handless Usiamo questo attacco Guardate questo Bellissimo Però non dove interrompere la combo subito Vabbè Fatto stacca adesso Aia Fatti sotto Ecco fatto Le ho uccisi tutti subito L'imperatore è in pericolo Comunque Oltre a 29 E' una combo non tanto particolare Una combinazione di attacchi non tanto particolare Mi ricordo che ne ho fatto io di più Comunque Adesso qui mostro La fusione valore Ok Fatti sotto Gruppo Paperino Fusione valore Fatti sotto Ora mi hai proprio rotto le palle E vai Finalmente E vai E ciao Che cosa credete di fare Però guarda questo H luxuri Ha ha Perché c'è questo Ah dannazione Ha 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 Combattiamo contro l'uccellino E cosa credi fare? Sono più forte io Ah 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 Attacca E ora Ah 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 Possibile che casco in questo Ah ah E ora guarda questo Spingi 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 Strano attacca Parata E ora E ora sei morto Ah no Quella era la vita del piccione Muore l'uccellaccio del malagurio Ecco Adesso tu muori Ah vai Ho usato spingi per ucciderlo Che grande Bene Bene Ma noi dobbiamo terminare qui E qui finisce un altro livello di Kingdom Hearts 2 Salva E qui finisce un altro livello di E qui finisce un altro livello di